Perché un uomo non vuole impegnarsi, perché un uomo, vediamo un po', perché un uomo non vuole impegnarsi, cosa posso fare io? Nel frattempo saluto anche Paradox e cerchiamo di capire un attimino, però Mutatis Mutandis vale anche per le donne, perché ci sono anche molte donne che sono immignottite, che non hanno voglia di impegnarsi, vogliono dar la via tranquillamente senza impegnarsi. Quindi è importante entrare nel cuore di queste persone, quindi questo è il punto fondamentale. D'altra parte ci sono tantissime donne che sono anche donne interessanti, non sono donne di valore, non sono sicuramente sciampiste, non sono sicuramente sciacquette e sono donne interessanti, affermate anche nella vita, molto femminili, di successo, sicuramente non sono sciampiste, non sono... oh, diamo benvenuto ad Alessia Bertoldo, benvenuti in live. Ricorda di chi volesse entrare in chat può semplicemente abbonarsi. Non sono... saluta Patrizia, però dicevo non sono sciampiste, nella metafora della sciampista, o come si può dire, call centeriste, salutiamo anche Wormall, però non riescono a trovare la persona giusta. Questo dipende da che cosa? Dipende... c'è un unico elemento, diciamo, che ha il potere di risolvere questa questione. Intanto poi cercherò di farvi capire anche che poi le cose dipendono da tanti fattori, anche soprattutto da quello che si vuole, però ci sono degli elementi molto importanti da tenere in considerazione. C'è un elemento che ha il potere di risolvere ogni questione, che fondamentalmente è l'amor proprio. Quando una persona comincia ad amarsi veramente, quando una persona comincia a credere nelle sue capacità, comincia ad avere quella caratteristica che si chiama self-confidence, cioè fiducia in se stessa, fiducia in se stessa o in se stesso, allora le cose cominceranno a prendere una piega diversa. L'autostima, l'amor proprio è fondamentale anche per avere un rapporto di coppia appagante. Un rapporto basato sull'amore, ma è basato anche sul rispetto reciproco, perché poi l'impegno... Già il termine impegnarsi in amore è già un termine sbagliato, ma perché l'impegno ricorda una rottura di coglioni, fondamentalmente, diciamo la verità, l'impegno ricorda una rottura di coglioni. Intanto saluto un po' di persone che sono in chat, saluto la più anziana, partiamo dalle più anziane, Noemi, che è una vecchia carampana, ormai vecchissima Noemi, rincitrullita. Poi salutiamo anche Chris Chris, Warmol, Alessia, insomma, tutte le persone si collegano. E comunque, quindi, la buona notizia è quella che dipende tutto da te. Hai diritto a vivere una relazione basata sull'amore, sul rispetto reciproco. Un amore libero da sofferenza, questa è la cosa fondamentale. Deve essere un amore libero da sofferenza. Sei libero di inseguire la persona sbagliata, sei libero di inseguire la persona che ti prende per il culo. Ma sei libero tu di farlo, perché non c'è nessuno che ti costringe a fare questo. Questo è il concetto di fondo. Non è che sei costretto o costretta a fare delle cose. Questo è un qualcosa che, diciamo, è un qualcosa che devi tenere presente. La cattiva notizia è che anche tu non puoi cambiare gli altri. Intanto saluto anche la faga. Questo è un errore che fanno tante malgascione, tante carampane. Non è che puoi cambiare gli altri. Non è che tu puoi andare a scegliere. Quello lì che ha 40 anni di onorato libertinaggio alle spalle e sperare di, diciamo, di farli innamorare di te, sperare che con te diventi come l'arma dei carabinieri. Nei secoli fedeli. Non è così. Non è così. Certo, uno può cambiare per un po', ma non è che può cambiare a lungo termine. Neppure molte donne soffrono proprio per questo. Perché? E poi si lamentano, no? Fanno il verso della regosta buttata nell'acqua bollente. Gni, mi ha tradito. Gni, mi ha tradito. Gni, mi ha fatto le corna. Gni, si è fatto la mia amica. Gni, fanno sto verso della regosta buttata nell'acqua bollente. Ma non capiscono che, diciamo, che è colpa loro. Che sono soltanto delle, come dire, delle poveracce, delle sciampiste, delle centraliniste di call center. Sono la feccia più infima, diciamo, del mondo femminile, no? Quando si lamentano così. Perché non è possibile, no? Non è possibile lamentarsi quando sei tu che vai a sceglierti qualcosa lì. E come l'esempio che faccio sempre, vai a sceglierti, vai a comprarti le acciughe in salmoglie e ti lamenti che sono salate. Quindi bisogna tenere presente, intanto, io l'ho sempre detto, ma è fondamentale. Salutiamo anche la vecchia Liana, Dami. Un'altra vecchia della mia chat. Purtroppo, intanto, entrate in chat. Dico a tutti gli uomini, a tutti i maschietti. Questa chat è piena di donne anziane. Quindi, per tutti gli amanti delle donne anziane. Tra l'altro, penso, fonderò presto un'agenzia. Un'agenzia dove cercherò di piazzare donne anziane. Un'agenzia, non matrimoniale, ma un'agenzia di incontri per donne anziane. Oh! Annunzio Vobis, Gradium Manium. Psicologia con ironia di Veronica Rossi. Mi sovviene, Veronica, dobbiamo fare un video. Cioè, in me è una vita che non facciamo più interviste. Magari ci sentiamo su Whatsapp, così facciamo un video. Dopo tanto tempo, annunzio Vobis, Gradium Manium. Abbiamo di nuovo la nostra super Veronica Rossi, che lei invece è giovane. Veronica Rossi è l'unica giovane qua dentro, l'unica giovane. E qui dicevo, parlando di agenzie, che poi è cascata a fagiolo sul termine agenzia. Perché, vabbè, io non posso svelare, non posso svelare. Però Veronica Rossi, insomma, con le agenzie un po' ci sguazza. E quindi teniamo conto che vi piacerebbe. Potrei aprire un'agenzia per donne anziane, non per piazzare donne anziane. Perché questa chat è fatta da donne anziane. E poi però hanno anche un loro mercato, le donne anziane. Perché ci sono i toyboy che cercano le anziane. Ci sono quegli anziani, diciamo, tuagenari, che cercano la badante anziana. Per cui avete anche un mercato. Quindi non lamentatevi. E stavo dicendo, la cattiva notizia, cari Malgascione. È vero, è vero. Perché faccio la società con i genitori di... Potremmo fare una società, Veronica. Ti piazzano le donne anziane. Le donne anziane, per i tuoi genitori, potrebbe essere... Tanto solitiamo anche già dall'astrologa. E quindi, stavo dicendo, la cattiva notizia è che non potete cambiare gli altri. È inutile che andate a cercare il libertino con 40 anni di onorato libertinaggio alle spalle e pensate di farlo diventare, come nei secoli, fedele come l'arma dei carabinieri. Non è possibile, no? Questo vale anche per gli uomini. Uomini che vorrebbero la donna santa, si cercano il puttanone da competizione e poi si lamentano che è una mignotona da corsa. Ma te la sei scelta così? Cioè, tra l'altro, ti ha sedotto pure così, no? Oh, abbiamo anche Culti Abusanti. Un culti Abusanti è anzianissimo, è vecchio, è vecchio. Vedete che va a dormire presto. Culti Abusanti nonché Adriana Apparatore, la DJ. Una donna vecchia, vecchia, vecchia nell'animo, proprio. C'è solo le trecine di giovane, l'Apparatore, Adriana Apparatore. Tanto iscrivetevi al canale Psicologia con ironia, eh, di Veronica Rossi, mi raccomando. Anche al canale di Adriana Apparatore, così vedete la differenza tra un canale di una donna giovane come Veronica Rossi e di una donna anziana come Adriana Apparatore. Salutiamo anche Green Apple, anche Green Apple. Anche la nostra Green Apple. Allora, quindi, dovete tenere presente, questa cosa qua vale sia per gli uomini che per le donne. Voi non avete potere di cambiare nessuno a lungo termine. Certo, quando un è innamorato, magari nella fase dell'innamoramento, può fare qualche cosa, qualche cambiamento ci può essere, ma poi alla fine si ritorna sempre, no? È come avere una calamita. La nostra personalità è quella che è. Cioè, possiamo evolverci, ma non ci strasvolgiamo mai, no? C'è un proverbio che dice, chi nasce tondo non muore quadro. Ed è così. Quindi, la cosa fondamentale è sceglierci qualcuno che va già bene per noi. Quindi, definitevi un target e poi, mi raccomando, non fate mai il verso della ragosta bollita, della ragosta buttata nell'acqua bollente, perché poi la malgasciona fa sempre il verso della ragosta. Gni, gni, sono sfortunata. Gni, l'universo ce l'ha con me. Gni, ho trovato un altro stronzo. Gni, hai trovato un narcisista. Gni, tu non hai trovato niente. E soltanto che il problema è questo, che è la tua debolezza, è il tuo essere bisognosa che ti fa trovare le persone che non vanno bene. Perché la vita sarebbe molto più semplice se noi abbandonassimo tutto quello che non ci dà benessere e ci promuovessimo quello che ci dà benessere. E siamo responsabili, brava, psicologia con ironia, la nostra Veronica Rossi è esperta, anche sessuologa e criminologa. È tutto Veronica Rossi, grandissima. Pur essendo giovane, in un unico individuo chiude una psicologa, una criminologa e una sessuologa. E quindi ognuno è responsabile delle scelte che fa. Il problema è che voi dovete fare le scelte giuste. Dovete, diciamo, cercare di avere un obiettivo nella vostra vita. Se non farete una vita di merda, se voi non vi date degli obiettivi, gli obiettivi ve li darà qualcun altro. E infatti viviamo in un mondo dove sono tutti pronti a darci degli obiettivi. Basta accendere la televisione e tutti gli danno obiettivi. Ma basta sentire, cioè, anche, ci sono anche, anche giardiniera, e anche giardiniera, e anche giardiniera, bravissime. Ci sono, sono tutti pronti a darci degli obiettivi in questa vita. Perché se non cediamo noi ci sono le televisioni, no? Accendi, no? Basta che ognuno deve avere, deve farsi un'autoanalisi, insomma. Deve guardarsi in faccia, guardarsi allo specchio e capire, come diceva Lacan, che è un famoso psicanalista francese, Lacan, che diceva, guarda che dentro di te c'è un tuo desiderio, un desiderio profondo. Devi cercare quello. È inutile. Se tu scopri questo desiderio profondo e lo persegui, sarai felice. Quindi non c'è una regola per cui, una regola, un codice etico. No, noi siamo sommersi da codici etici. Tutti hanno codici etici che in qualche modo ci guidano. Sì, Veronica è un canale YouTube, Psicologia con ironia, vecchia Aliana Dami. Vatti a iscrivere subito al canale di Veronica Rossi. Questo è un'altra cosa fondamentale, no? Ogni donna può creare se stessa. Ogni donna può creare ciò che gli piace. Può vivere la vita che gli piace. Anche ogni uomo può farlo. E quindi, quando tu ti chiedi perché un uomo non vuole impegnarsi con te, che cazzo vuol dire impegnarsi? Che cazzo vuol dire? Già il termine impegnarsi è un termine... Già il termine impegnarsi è un termine sbagliato. Anche i culti abusanti, cioè Adriana Paratora ha un canale, eh. Interessante i culti abusanti. Iscrivetevi anche i culti abusanti. Questo è un qualcosa di fondamentale. Poi, tra l'altro, non è neanche piegandosi ai voleri di un'altra persona che tu otterai amore e rispetto. Anzi, paradossalmente, se tu, tra virgolette, ti pieghi al volere di un'altra persona, ottieni disamore e mancanza di rispetto. Questo è fondamentale. Impegnarsi, l'impegno è un qualcosa di sbagliato. Cioè, il termine impegno, no? È come il termine lavoro, no? Lavoro è associato a tutta una serie di... Cioè, che lavoro fai a una serie di fatica, no? Non dovremmo... Il lavoro dovrebbe essere una passione. Dovremmo fare qualcosa che ci dà passione. Perché ci sono delle parole che si portano dietro tutto un brutto retaggio, no? Termine lavoro ti ricorda che quello che va a faticare miniera, che si spacca la schiena nei campi, che ne so. Ti ricorda il catramista a cassa integrato? Quando è cassa integrato c'è culo. Ma quando non è cassa integrato va a spalare il catrame. Per chiarità, niente di male. Però il lavoro si porta un ancoraggio, un ancoraggio emozionale negativo. Come il termine impegnarsi. Cazzo, uno dice, devi impegnarmi. Che cazzo devo fare? Impegnarmi. Porca miseria. Cioè, le parole non si esauriscono così nella nostra mente. Le parole plasmano il nostro futuro. Oh, un saluto anche al nostro dottor Giorgio Cameli. A Bemus. Annunzio Vobis Gaudium Manium. A Bemus. Giorgio Cameli. E quando vedo Giorgio Cameli non posso che pensare a battito di ciglia e il sentiero della felicità che c'è anche il mio piccolo contributo nel sentiero della felicità che tra l'altro fate una beneficenza se lo comprate al Policlinico Gemelli di Roma nella sezione pazienti oncologici. Certo che puoi tutto, Giorgio. Certo che puoi. Puoi e come. E quindi questo è un qualcosa di interessante. Quindi comprate questo libro, il progetto Art for Art, con, insomma, per i pazienti oncologici Policlinico Gemelli di Roma. Quindi dobbiamo tenere presente, come diceva Michelangelo, no? Michelangelo, vi ricordate? Vabbè, voi siete ignoranti, molte carampagne sono ignoranti, non sanno chi è Michelangelo. Ma Michelangelo, famoso scultore, famoso tante altre cose, diceva che in ogni blocco di pietra la statua è già dentro e la vera, il vero compito dello scultore è tirare fuori la statua che è già dentro il blocco di marmo. Questa è la cosa interessante. Quindi dovete tirare fuori quello che c'è già dentro di voi, che è il vostro desiderio profondo, desideris, la mancanza di stelle, cercare le stelle, arrivare alle stelle. Quindi dentro la vostra, dentro di voi c'è già il vostro desiderio. Come diceva Michelangelo, dentro ogni blocco di marmo c'è già la statua. Quindi dentro di voi c'è già quello che volete. Non dovete piegare quello che volete a un'altra persona. Questo è molto importante. Bisogna smantellare tutte le convinzioni che non servono. Bisogna smantellare tutti gli ancoraggi emozionali negativi. Basta usare la parola lavoro. Usate la parola passione. Usate la parola faccio quello che mi piace. Ma già se usate il termine domani devo andare a lavorare, vi svegliate che siete già stanchi. Perché è ovvio, soltanto la parola, soltanto pronunciare la parola lavoro vi stanca. Dove è andato Gio? Esatto, qualcuno sa dove è finito Andrea Giovani. Non sappiamo, non sappiamo dove l'abbiamo andata. Abbiamo perso Andrea Giovani. Facciamo una seduta spiritica, mi sa. Tra un po' mi toccherà fare una seduta spiritica per evocare lo spirito di Andrea Giovani. Quindi questo è fondamentale, no? Altrimenti se tu non farai così e cercherai di piacere a tutti, cercherai di accontentare a tutti, te lo prenderai in quel posto che neanche, come direbbe Giorgio Cameli, Rocco Siffredi te lo metterebbe così lungo. Esatto, noi siamo in pensione da una vita, esatto. Noi oramai abbiamo mandato in fallimento l'Inps, Giorgio. Ci ha pagato tante pensioni l'Inps che ormai l'abbiamo mandata già in fallimento da una vita. E' colpa nostra, è colpa nostra. E quindi, diciamo questo, ci sono donne fantastiche, no? Ci sono donne fantastiche, piene di risorse, ma che hanno una scarsa fiducia in se stesse. E questo dobbiamo dirlo. E quindi si ritrovano a incassare i colpi della vita. Si ritrovano a vivere la vita con rassegnazione. Si ritrovano, esatto, l'Inps ci saluta più. Si ritrovano a vivere una vita, diciamo, alla ricerca dell'uomo giusto, no? Questo mitico uomo giusto, tanto il mitico Principe Azzurro, no? Perché poi voi che siete anziane, malgascione, siete cresciute col mito del Principe Azzurro, no? Ma il Principe Azzurro non esiste, vi ha fregato Walt Disney, Walt Disney vi ha fottuto. Quindi dovete imparare ad acquisire fiducia in voi stesse, vecchie carampane, vecchie malgascione che non siete altro, donne anziane. Su, non sprecate gli ultimi giorni di vita che vi resterà da vivere. Cercate di tirare fuori l'energia, cercate di tirare fuori la fiducia. La risposta alla live, te ne devi andare, esatto. Acquisite fiducia in voi stesse, sviluppate amore proprio, affrontate la vita con ottimismo. Che tanto ci sarà la guerra nucleare tra poco, cioè questi ultimi giorni, che se non sarà, diciamo, la signora, come si chiamava quella lì, una nera signora, no? Se non sarà la nera signora a falciarvi via, saranno le bombe nucleari a togliervi dal mondo. Quindi vivete con ottimismo, viviamo con ottimismo quello che ci resta da vivere, cercando di goderci, no? Cercando di goderci la vita, no? La nera signora, com'era lì? Porca misera, Samarkand, una nera signora. Non mi ricordo mai... Cioè, quella canzone, no? Cioè, quella canzone di vecchioni, no? Samarkand, che vabbè, voi che siete anziani la conoscerete sicuramente. Samarkand, che diceva... Quello lì che voleva sfuggire. Oh, la malefica, diamo benvenuto alla malefica. Samarkand, che voleva sfuggire, diciamo, no? Il tipo voleva sfuggire alla morte e allora ha cavalcato fino a Samarkand. Però incontra la nera signora, che sarebbe la morte, e dice, ti aspettavo qua. Ecco, quindi dovete acquisire fiducia in voi stesse, sviluppare amor proprio, affrontare la vita con ottimismo. Perché non sapete quanto durerà la vostra vita? Viviamo in un mondo dove domani ci tirano una bomba atomica e ci hanno tolto dalla circolazione, no? Quindi questo è fondamentale. Questo è fondamentale. Bisogna, da un certo punto di vista, portare avanti e non trincerarsi dietro gli impegni, trincerarsi dietro le cose. La società, la nostra società in cui viviamo, tenete presente una cosa che non vuole persone felici. La nostra società vuole persone infelici, perché è molto più facile controllare chi è infelice. Se qualcuno è infelice, quanta gente di notte non russa più, esatto, esatto. Oramai non russa più. Però io credo questo, che controllare persone infelici sia molto più facile. Perché chi è infelice è soddisfatto, si lascia pilotare, no? La felicità invece dà un potere enorme, è per questo che non vogliono che siamo felici. La nostra società si impegna in tutti i modi a farci sentirne adeguati, no? I suoi messaggi sono potenzialmente distonici, no? Quando voi che siete vecchi e piene di cellulite, col culo basso e le tette flosce, e vi fanno vedere l'immagine, no? Di questa donna bellissima, con le gambe lunghe, il seno turgido, bella, eccetera, eccetera. Voi vi guardate allo specchio e dite, ma io che devo fare al mondo? Voi che siete con le macerie, piene di cellulite, tette molle, culo basso, eccetera. E' tutto floscio, a me fanno vedere Rocco Siffredi, che fa le flessioni col pisello. E' ovvio che anch'io, che cosa posso, che cosa, distonizzano anche a me, a me e a Giorgio Cameli, no? Ci fanno vedere Rocco Siffredi, che ha la terza gamba, che non capisci qual è la seconda gamba o la terza gamba. Cioè, e tu praticamente a quel punto lì sei distonizzato completamente, no? E quindi la società ti vuole infelice, no? Poi c'è Caterina Faga, che ingrassa come una zampogna. Quando fai il mare nel bagno, pensano che sia atterrato Moby Dick, che ci sia il Titanic, che il Titanic sia di nuovo entrando in acqua, e ci fa hanno varato il Titanic? No, e Caterina Faga che fa il bagno. Ah, ok, va bene. E' ovvio che poi lei quando vede tutte queste bellezze, che sono, diciamo, sì, le mie tette si reggono da sole, le tette si reggono con le impalcature, le tette di culo abusanti si reggono con le impalcature, servono le impalcature per tenere su, neanche per tenere su le tette di culo abusanti, ci vogliono, altro che impalcature, ci vogliono, e beh, io non uso il reggiseno, perché non serve nessun reggiseno, cioè nessun reggiseno sarebbe in grado di sorreggere le tette così decadenti, anche di Eliana Dami. E quindi, il mio neanche il cric lo tiro su, neanche il cric, neanche il cric. Ma no, ma questo per dire che cosa? Per dire che, per dire che il problema qual è? Il problema è che ti distonizzano, no? Il problema è che ti distonizzano, ti distonizzano perché poi ti fanno vedere questa pubblicità inesistente, e quindi tu ti senti una merda, diciamo così, no? E quindi dobbiamo essere felici comunque, dobbiamo essere felici a prescindere, dobbiamo essere felici a prescindere. Questo è importante, non dobbiamo sentirci inadeguati, dobbiamo sentirci felici a prescindere. Da quello che ci dicono, fottercene, fottercene assolutamente di quelli che sono i giudizi degli altri, soprattutto di quelli che sono i giudizi dei codici etici, no? Dobbiamo assolutamente fottercene. La società vuole rendere oggetti e sentimenti per garantire il consumo. Esatto, bravissimo, Giorgio. La società ci vuole infelici per controllarci, vuole renderci... Per la società noi siamo dei consumatori, no? E quindi prima ti fa sentire un cesso, poi ti dice, fai la pratica X, compra il cibo Y e diventerai figa. E invece tu compri il cibo X, il cibo Y e anziché diventare figa, diventi faga. E quindi diventi faga e allora ti trovi nella merda di nuovo, no? Quindi bisogna... bisogna tenere presente questo, no? Quindi in qualunque situazione ognuno si trovi, se siete sole, se siete accoppiate, se siete come siete, non importa se avete una relazione, se non ce l'avete, dovete essere felici a prescindere. Se una persona è felice a prescindere, può tutto, può tutto, potrai diventare, potrai diventare, diciamo, indipendente, libera, forte. E quindi amare non significa permettere a qualcuno che ti metta i piedi sul collo, qualcuno che ti schiacci come una caccola, no? E semplicemente significa, e non significa neanche impegno, non significa neanche prendersi degli impegni. Gli impegni devono essere commisurati con quello che uno vuole, no? Quindi è inutile che vi lamentate. Donna lamentosa, donna noiosa. È inutile che gni, gni, vi lamentate. Alla fine la pubblicità perdona nello spot recita, perché io valgo, io valgo. Dunque, se uso il prodotto vale, altrimenti, logicamente, hai detto che non vale un cavolo. Esatto, esatto. Associano, associano, diciamo, il prodotto a te. Se più di quel prodotto vale, altrimenti non vali. Ma, però, poi ti fregano pure, perché pur usando quel prodotto ti rendi conto di essere una merda e allora per un meccanismo coattivo andrai a comprare ancora di quel prodotto perché non puoi accettare, non come quello che compra le azioni che scendono e continua a comprarle. Quindi, comprendere e mettere in pratica questi insegnamenti piccoli che vi sto dando, però è fondamentale. Quindi, voi dovete muovervi nella direzione dei vostri sogni, cercare qual è il vero, esatto, donna che ride mutanda che cala, di Valerio Esatto che va a pelle. Dovete mettere in pratica questi concetti, muovervi nella direzione dei vostri sogni e fottervene. Se una persona, se una persona non vi dà, non vi dà quello che volete fuori dai maroni, trovatene un'altra. Cioè, non è che l'impegno non esiste, non esiste impegno. Cioè, non dovete lamentarvi perché perché non vuole impegnarsi. Ma fa bene non impegnarsi con voi. Siete anziane, ma voi cercate di definire il vostro obiettivo. Quello che è il vostro obiettivo dovete portare avanti, dovete liberare la vostra vita, dovete trovare la statua che è già dentro di voi, perché dentro di voi questa statua è già presente. Quindi dovete soltanto togliere il materiale in eccesso, no? Quindi, e poi bisogna esercitare il libero arbitro, essere liberi di scegliere, liberi di scegliere e di conquistare. Quello credo che sia fondamentale. La percezione subliminale che è il suo inconscio. Eh sì, poi questi messaggi, come dice Giorgio Cameli, agiscono a livello subliminale, cioè al di sotto della soglia di coscienza. Purtroppo siamo, tra virgolette, plagiati, no? Da messaggi subliminali che attechiscono, diciamo, a livello analogico, attechiscono a livello, diciamo, emotivo, senza che neanche ce ne rendiamo conto. Comunque, bisogna sviluppare queste due capacità. La capacità di decidere per sé e la capacità di conquistare. La capacità di conquistare, poi, io credo che sia una dote innata che appartiene a ognuno di noi, anche a voi, vecchie, anziane, brutte, anche voi che siete malgascione, anziane, brutte, decadenti, derelite, avete la capacità di conquistare, perché conquistare è una dote innata. E quindi, cercate di tirar fuori questa vostra capacità di conquistare, nonostante la vostra situazione decadente, cercate di trovare, perché dentro di voi c'è questa capacità di conquistare. Nel anni 60, nel cinema, in America, passando in pochi millisecondi, pubblicità, ricordi, ecco, 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 diciamo, la dilatazione, pupillare, misura, la conducibilità dell'etrica della pelle, si vedono dei risultati, quindi noi siamo soggetti a tutta una serie di messaggi subliminali, quindi, comunque, torno al discorso del prima, dovete sviluppare la capacità di decidere liberamente, essere liberi di decidere, fottendovene di quello che dicono gli altri, essere capaci di conquistare, conquistare ciò che vi interessa, ovviamente la vita, è una sfida continua a conquistare persone, a conquistare situazioni, a cercare di migliorare la nostra esistenza, diciamo che dal primo vagito fino all'ultimo respiro dobbiamo avere la forza di conquistare, di decidere, liberamente, fottendocene di quello che ci dicono gli altri, perché quello che ci dicono gli altri tutto al più va bene per loro, non è che poi se uno decide di andare a chiedere una consulenza che ne so a Veronica Rossi piuttosto che a qualcuno vabbè è un discorso, ma altrimenti fottetevene perché vorrebbe conquistare la donna più sufficiente tutto l'universo, la regina Elisabetta, infatti beva la tisana all'inglese, l'inglese, la regina Elisabetta sarebbe il top. E questo tra l'altro poi non dobbiamo neanche chiedere, perché chiedere tra l'altro è da perdenti fondamentalmente, bisogna imparare ottenere tutto, bisogna imparare ottenere tutto senza chiedere niente, questo è un po' il concetto, qual è il segreto per ottenere tutto senza chiedere niente? È valutare bene se stessi, nonostante tutto noi dobbiamo amare noi stessi, nonostante tutto io mi ripeto tutti i giorni io sono la persona più importante del mondo oppure io sono quel che sono e se non ti vado bene fuori dai coglioni perché se io non sono in crisi di identità e quindi sono centrato su me stesso io dico io sono quel che sono io sono quel che sono io sono colui che è come dice disse Yahweh io sono colui che è ti vado bene e sono così se non ti vado bene fuori dai coglioni fuori dai coglioni fuori dai coglioni e questo è quello che dovete imparare a fare anche per conquistare diciamo persone che poi non ti vanno bene è sbagliato no? la persona seducente è poi anche una persona che ha entusiasmo enteosiasmo avere Dio dentro avere Dio dentro è fondamentale avere entusiasmo avere voglia di fare no? essere anche capaci di ascoltare gli altri questa è un'altra capacità che molte malgascione non hanno molte malgascione non riescono a conquistare l'uomo giusto perché? perché cosa fanno? buttano vomitano tutte le loro tutte le loro merda che sono piene di merda che hanno dentro eh mio marito mi ha lasciato eh ho perso il lavoro eh ho i figli eh piccoli qua là mio figlio si droga mio figlio qua mio figlio là ti vomita non so da sta cosa e tu che cavolo quando senti sta cosa qua eh scappi scappi la la Merkel no la Merkel no a me piace la Queen mi piace Betty Betty Queen Elizabeth Queen Elizabeth Forever Queen Elizabeth no dovessi scegliere andare a cena con una donna mi spiace ma veramente sceglierei Queen Elizabeth Queen Elizabeth cioè ma vuoi dire che cazzo mi faccio un selfie con Queen Elizabeth che lo metto su Instagram voglio vedere se faccio la 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 diretta con Queen Elizabeth e voglio vedere quanti sbarco sbanco il lunario quindi comunque eh un bel cuccio un biberon esatto un bel cuccio un biberon eh io vomito quando voglio togliermi dei maroni esatto esatto quindi eh vabbè io sono povero come dire sono povero ma ricco di spirito sono ricco di spirito Noemi ricco di spirito di spirito nel senso di alcol cioè spirito quello a 260 gradi il 21 fa 96 ah pensa a te la mia mamma invece il 20 compie gli anni quindi anche una una riete quindi Elizabeth è una riete la Betty è una riete la Betty è una riete è una riete il 21 accidente è una riete è una rietina eh il 21 però è a toro è cuspide 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 a riete toro a riete toro è sulla cuspide è sull'isopra insomma dipende da che ora è nata ma è la cuspide oh diamo benvenuta Vivi 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 o Vivi mio padre il 21 aprile quindi comunque dobbiamo tenere presente queste cose qua quindi dobbiamo imparare a essere seducenti essere seducenti tutto sommato è molto semplice anche se io buonasera Vivi anche se io un segno tecniche di seduzione essere seducenti è davvero molto semplice la persona che seduce non ha bisogno di vantarsi 21 aprile Natale di Roma esatto non ha bisogno di vantarsi non ha bisogno di mettersi in posa non ha bisogno di essere narcisista non ha bisogno di niente è l'entusiasmo che seduce è il saper generare emozioni il saper creare empatia sedurre significa attrarre gli altri a prescindere dalla bellezza anche voi che siete racchie anche voi che siete anziani anche voi che siete come Betty Kotick insomma malgascione anche voi che siete pieni di cellulite col culo flaccido le tette molle avete possibilità di sedurre avete possibilità di attrarre indipendentemente dalla vostra bellezza che non c'è o dalla bruttezza che c'è dalla ricchezza dallo stato sociale è ovvio che la cultura sicuramente aiuta la persona seducente non è una persona perfetta la persona seducente è una persona che sa stimolare emozioni è una persona che sa mettere dentro le emozioni insomma sa metterlo dentro fino in fondo come Rocco tutta l'emozione quindi chiunque può diventare seducente anche voi anche voi potete diventare seducenti anche Betty Kotick potrebbe diventare seducente anche Vivi ad esempio la faga la vedo un po' più dura però diciamo se si impegna dai magari anche la faga perché per sedurre la persona giusta bisogna saper discriminare qual è quella giusta e quella sbagliata dovete imparare per prima cosa a discriminare la lana dalla seta a discriminare la crusca dal grano i Beatles stanno pensando a fare una canzone dedicata ai cateteri la regina va a mare in topless e secondo me si Queen Elizabeth Queen Elizabeth è il top quindi liberatevi da tutto ciò che è superfluo liberatevi da tutto ciò che non vi rende felici che siano oggetti cose persone liberatevi liberatevi da tutto ciò che vi complica la vita semplificatevi la vita c'è una volta l'ufficio cos'è? l'ufficio complicazioni affari semplici UCAS UCAS ufficio complicazioni affari semplici UCAS basta di UCAS UCAS non vogliamo più UCAS non dovete dovete semplificare la vita mantenere l'ottimismo anche in tutte le situazioni no? questo è Verdone diceva la milza è un organo superfluo liberatevi ah Verdone forse non so quindi UCAS UCAS liberatevi di tutte le cose inutili dovete liberarvi di tutte le cose inutili e questa è la cosa fondamentale mantenete l'ottimismo e troverete la persona giusta senza impegno impegnarsi non c'entra niente la chiave la vera chiave della seduzione è quella di essere in pace con se stessi lo dicono anche i tarocchi adesso il carro dei tarocchi no? c'è il carro la carta qua dei tarocchi che ce l'ho sotto mano quando uno cerca una carta eccolo qua il carro no? il carro il carro rappresenta proprio questa carta no? la carta del carro rappresenta proprio l'armonia quando è dritta quando è storta rappresenta la disarmonia vedete queste due belve no? che tirano una parte la fiera bianca e la fiera nera rappresentano praticamente la parte emotiva e la parte inconscia noi dobbiamo aver equilibrata la parte emotiva con la parte inconscia se vogliamo raggiungere un obiettivo perché altrimenti se abbiamo un sabotatore interiore se abbiamo una persona che da dentro diciamo genera autosabotaggio se abbiamo una persona che da dentro ci rovina non riusciremo a conquistare assolutamente nessuno bene bene quindi sono già le 10 e 30 quindi portate avanti questa cosa e vedrete che non serve nessun impegno conservate un po' di mistero non svelate tutto non inseguite non emosinate amore e poi la ricetta della seduzione è anche bella perché ci sono tante varianti fondamentalmente i tarocchi li faremo nell'altro canale esoterismo e spiritualità con massimo terramasco per adesso quindi seducete 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 e l'impegno non serve e mi raccomando iscrivetevi carampane al canale